Che qui per chiedere che la priorità sia data alla scuola, la scuola è il nostro diritto, soprattutto farla in presenza e vivere le dinamiche della classe, della scuola che ci rendono i cittadini del futuro. Noi non viviamo, non ci formiamo facendo solamente una didattica frontale, noi ci formiamo scambiandoci idee, opinioni, dibattendo, facendo anche altri corsi al di fuori del mero orario scolastico. Quindi siete d'accordo con quello che dice la Ministra Azzolina? Noi, sì, tante belle parole, però noi vogliamo dei fatti, è quello, noi vogliamo sicuramente, come dice anche lei, un ritorno a scuola, la sicurezza è tutto, però noi vogliamo assolutamente dei fatti, vogliamo più spazi, un tracciamento, vogliamo un piano adeguato e siamo stanchi, siamo molto stanchi.